Il 2015 è l'anno di Expo. Come vedi questo grande tema della nutrizione che è stato lanciato e le possibili connessioni con il mondo dello sport che tu rappresenti e che ti candidi anche a guidare con questa candidatura per la presidenza della Fisi? Beh, innanzitutto l'esposizione universale è un momento strategico per tutte le nazioni che partecipano però chiaramente è strategico per la nazione che ospita le altre nazioni. L'Italia credo che abbia proposto questo tema e sia stata anche votata poi con questo tema altrettanto strategico, peculiare in particolare a una nazione come la nostra, l'Italia. Nella nazione dove veramente sull'alimentazione, non dico che siamo i primi della classe però abbiamo Madre Natura che ci ha regalato questo status di altissimo livello per quanto riguarda gli alimenti soprattutto. La base da dove poi nascono tutti quei piatti che ci invidiano in tutto il mondo qui possiamo dire che siamo first, siamo primi. È chiaro che questa natura in un paese mediterraneo crea, dà la possibilità di avere a disposizione espressioni alimentari non so, mi vengono a mente i carciofi piuttosto che i broccoli o i fagiolini cioè delle espressioni alimentari che, oppure il pesce, la carne, in modo diverso un po' una varietà anche ampissima, per non parlare delle risaie, delle nostre risaie comunque una gamma ampissima di alimenti che consentono al nostro paese uniti alla, mi piace dire, alla fantasia degli italiani e ai colori la mescolanza di colori, sia della fantasia italiana ma dei colori della natura, degli alimenti a provocare questi piatti che non sono sono belli ma sono veramente nutrienti veramente nutrienti buoni e sono invidiati da tutto il mondo quindi questo tema, come nutrire la natura sostanzialmente è un tema che secondo me si veste perfettamente per Milano è chiaro che come ci si nutre come si trae energia dalla terra attraverso le patate quindi tutti i nutrienti per poi esprimere un gesto sportivo quindi un'espressione fisica è di straordinaria importanza la qualità di questo cibo rispetto a quello che poi sarà l'espressione del movimento perché qui parliamo di vera energia cioè noi mangiamo ciò che mangiamo viene tramutato in energia quindi anche come ex atleta io posso dire che sicuramente per esempio dal mangiare una pasta fatta crescere quindi i chicchi di grano piuttosto che un riso cresciuto in modo naturale e integrale ha un elevatissimo peso sotto il profilo proprio di quello che è il contenuto per gli atleti un elemento magari solo il riso solo la pasta solo il grano solo l'olio o solo uno dei miliardi possiamo dire di formaggi che abbiamo già questa è un'espressione che in giro per il mondo non è facile trovare soltanto per questo tipo di cosa qui noi invece in Italia riusciamo a unire questa grande forza del sapore questa grande forza della passione che mettiamo in cucina e che anche per l'atleta è ripeto una fonte grande di energia quali sono stati per esempio gli alimenti più importanti per me quando sciavo e quando facevo soprattutto tanti chilometri indubbiamente la pasta indubbiamente il formaggio grana quindi il parmigiano indubbiamente l'olio questi tre elementi sono stati gli elementi chiave della mia dieta unita chiaramente al colore delle verdure sono stati gli elementi chiave della mia dieta una dieta mediterranea ma una dieta che credo che qualsiasi persona nel mondo la va a assaggiare può solo dire che è meravigliosa senti parlando della pratica sportiva in generale secondo te come si potrebbero agevolare gli spostamenti dalla città dalle città verso le montagne e come anche incentivare un avvicinamento consapevole agli sport invernali non so penso a iniziative che non prevedano sempre spostamenti singoli ma di gruppo, quindi cercare di rendere anche più intelligente e sostenibile la mobilità certo, certo ma innanzitutto ci vuole un'organizzazione un pensiero alla base, un'organizzazione e poi fare in modo che i cittadini anche responsabili di questo come dire a volte spreco inutile di tante macchine possano magari usufruire in montagna è vero che è difficile il treno perché non arriva in tutte le stazioni però magari ecco l'uso del pullman oppure delle macchine condivise anche perché due coppie non si mettono insieme cioè cambiare la mentalità anche dell'approccio di come andare insieme in montagna sicuramente questo aiuta poi io direi sarebbe meglio per chi la montagna ce l'ha abbastanza vicina dare la possibilità di andare anche in bicicletta in montagna ma non per le strade dove passano le macchine magari andare veramente avanti con le ciclabili in modo serio in modo che ci sia una rete parallela stradale solo per le bici e le persone veramente si possano muovere magari non per andare a sciare perché ci vogliono gli sci, la borsa eccetera però per andare a fare delle passeggiate oppure per avvicinarsi a dei vari centri limitrofi ecco la bicicletta credo che sia uno dei modi più belli ecosostenibili, rispettosi, etici, giusti e salutari anche per semplicemente guardare e fare una passeggiata contemporaneamente ci si muove io non sono molto brava in bicicletta sono un disastro però ritengo che la bicicletta sia uno dei modi più belli e anche più di aiuto per il nostro corpo a livello proprio meccanico perché non è impattante non ci fanno male i tendini anche le persone magari con un po' di peso possono usufruire della bicicletta e quindi è un modo per muoversi ma anche per poi rispettare la natura nel senso che ovviamente non si inquina e quindi si uniscono più cose ma entrando anche in questa mentalità è importante entrare nella mentalità perché se non si pensa a questo modo di muoversi è chiaro che si fa già fatica a prendere la bicicletta se invece la mentalità cambia magari piano piano si prende la bici e insieme ci si sposta da un paese all'altro quindi questi possono essere dei modi un po' più moderni un po' diversi e chiaramente molto più sostenibili l'ultima cosa le nuove tecnologie possono darci una mano a rendere la montagna più vicina? assolutamente sì intanto ce la possono portare a casa però e quindi con un click possiamo vedere le gare dei ragazzi oppure possiamo vedere non so delle stupende gare di sci alpinismo o passeggiate di sci alpinismo mio marito è una guida alpina quindi io quando possiamo andiamo insieme in montagna e soprattutto con lo sci alpinismo d'inverno o in primavera come adesso riusciamo a fare delle passeggiate per le cime per le creste che sono da sballo veramente perché ti fanno innamorare ti fanno entrare nell'universo e ti fanno innamorare e questo è un modo per esempio per godere la natura e per viverla in modo tranquillo ovviamente in sicurezza ma anche per muoversi nella natura in modo diverso anche questa è un'espressione per esempio nuova ed è questo è da provare la consiglio è un'espressione per la natura in modo diverso